musica 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 eh vabbè eh le grandi fatiche si salve eh le grandi fatiche per esempio le di ercole non erano niente guardate come sto messo io no ma comunque a parte gli scherzi il quarto video siamo sul 2 a 1 per Gianluca se vince questa ha vinto tutto signore e quindi sei va al quinto ah eh giusamente sono molto sicuro come stesso le leggi di marfino vabbè 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 condividiamoci la parola per la terza volta quarta quinta se eh battuti attenzione il contenuto di questo video è altamente fottuto il conteggio della partita è stato dimenticato da ambo le parti a causa sia dell'intensità della partita e soprattutto della nostra coglionaggine quello maggiormente penalizzato sono stato io ma abbiamo risolto la questione nel video succedente a questo siete dunque invitati a avvicinare entrambi i video non ve ne pentirete assolutamente buona visione a 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 no no attenzione quando ci si concentra 9 7 bus fenomeni questo è ghost adventures ghost adventures 7 ora allora partiamo da anticipare scusate siamo di un po' partiamo da anticipare che schifo 11-10 in modo non si sbabbia 12-10 ma tu mi sa che hai toccato io l'ho sentito non ho potuto sentire niente io l'ho sentito quindi 12-11 12-11 12-11 12-11 13-11 scusa scusa 14-11 14-12 14-12 15-19 16-19 15-40 15-40 15-40 15-40 e quindi 15-40 18 un 15-40 15-40 15-50 Quanto non ci parto? Aspetta, ma parti tu? Devo via il mio stupid bandico 15-14 per me Tu sei l'ultimo 16-14 16-16 16-16 E dai cosa? E stiamo... 17-14 18-14 Mamma mia 19-14 Questa è tu Ehm... no aspetta No, non ancora Oddio Che cazzo 20-14 Non lo so Ehm... Vabbè Un match no Un match no Un match no Ecco Allora questo... Siamo a 2 pari O al perlomeno così dovremmo essere Poglio, questo non lo farei però Ehm... Un match no Un match no Un match no Un match no Un match no